Anche quest'anno è a Mendatica con l'assessore Marco Scaiola che a Mendatica si diverte sempre. È una bellissima manifestazione, complimenti al Comune, alla Proloca, a tutti gli organizzatori. Quest'anno anche i miei figli hanno partecipato a questa bellissima sfilata dei Pastorelli, quindi una manifestazione molto bella che soprattutto serve anche per non solo festeggiare e stare tutti insieme ma anche per valorizzare e ricordare le nostre tradizioni, le tradizioni anche delle nostre montagne e quindi complimenti veramente agli organizzatori che tengono viva una manifestazione che secondo me è anche molto educativa per i nostri figli.